Senti, passate il Natale insieme. Beh, ovvio, siamo una famiglia e siamo insieme a Natale. Sì, la tombola, la tombola, la tombola, la tombola, la tombola, la tombola. No, la tombola. Chi lo fa il tombolone? No, quello da piccola, no, la tombola no. Ah, noi ci eravamo immaginati che facevate il tombolone. Con il suocero che si prende sempre il tombolone. No. No. 16 o 2. No. Bendy, la festa. Non dice così. Bendotto, è fizza. Non dice così. 71, Gianfranco Fini, on. Eh, vabbè. Mamma. No, ma che domanda. A che giocate a Natale? Che fate? No, mangiamo. Mangiamo e poi siamo talmente pieni del mangiare che ci sediamo sul divano oppure camminiamo. Camminate in casa? Certo, in casa. Di metri quadri. Fuori in casa. Ah, fuori in casa. Fuori, avevo capito in casa. Mi immaginavo, sta cosa, la tombola era bellissima. Eh, se vuoi ti facciamo finta che faccio la tombola. Basta che mi fate prendere l'ambo, tanto io so che l'ambo a casa vostra regalate il molise come prendo. Andiamo avanti. Oh, mamma mia, che domande. Bellissime. Ma quante cose stiamo scoprando. Questa è molto utile. Ma quante domande mi fate? Eh, no, ma noi vogliamo entrare proprio... Come ti dimostra l'amore nel tempo, lui? A noi col bonifico. Io quando mi arrivo un bonifico, io lo amo. Me lo dimostra lui. Ogni due mesi, sì, mi arriva il bonifico. Ma pensavo ogni mese, no? Ogni due me lo fanno. Perché a te quando arriva? A me? Eh, non lo so. Vabbè, tu quanto vuoi, te li vai a prendere. Ma che scherzi, no? Ogni settimana a me rinnovano le cose, mi arriva il bonifico. Ogni settimana? Dopo che faccio il verifico, sì, esatto. Grazie a tutti.